Epici saluti a tutti. Oggi analizziamo insieme in sintesi i contenuti del decimo libro delle Neide. Tanti combattimenti, tanti duelli, tante morti, alcune molto dolorose ci aspettano. Non perdiamo quindi tempo e iniziamo subito. Giove convoca un consiglio per chiedere quali ragioni abbiano spinto gli dèi a scatenare la guerra fra troiani e latini, contrarie al fato e al suo volere. Vi leggo i primi versi del decimo libro e proprio Giove che parla. Comandai che con i troiani non guerreggiasse l'Italia. Perché contro il mio comando vedo discordia? Quale paura gli uni o gli altri condusse a cercare le armi o a incitarle? Verrà il giusto tempo di lotta, non affrettatelo. A questo punto prima Venere e poi Giunone intervengono senza risparmiarsi reciproche frecciatine. Giove le ascolta entrambe e poi emette il suo verdetto. Il padre degli dèi alla fine accetta la guerra ma si dichiara super partes e assicura che il fato troverà la giusta via per risolvere il conflitto. Intanto i rutuli e i latini continuano il loro assedio. Racconta Virgilio che fanno strage di uomini e cingono di fiamme le mura. I troiani sono bloccati dentro l'accampamento senza speranza di fuga ma resistono coraggiosamente fino a sera. Enea è sulla via del ritorno. Virgilio ne approfitta per inserire un piccolo elenco degli alleati che l'eroe troiano ha raccolto durante la sua missione. Vengono citati popoli e città che negli anni hanno contribuito a rendere grande Roma. Nella notte Enea incontra le ninfe navi di cui abbiamo parlato nello scorso video. Vi ricordo che la dea Cibele ha trasformato le navi dei troiani in ninfe per non farle incendiare dai latini e dai rutuli. Una di loro, Cimodocea, informa Enea dei fatti accaduti in sua assenza e lo esorta ad affrettare il suo ritorno. Poi lei e le altre ninfe si mettono a spingere le navi per accelerare l'arrivo dei soccorsi. All'alba Enea finalmente giunge all'accampamento. La scena è epica e meriterebbe un'altrettanta epica musica di sottofondo. Mentre ancora sulla nave Enea solleva in alto il suo scudo dorato che riflette il sole e infonde coraggio ai compagni. Turno i suoi uomini provano a impedire lo sbarco ma non ci riescono. Enea è il primo a scendere dalla barca ad assalire nemici e uccide un guerriero dopo l'altro. La battaglia è in furia. Nei due schieramenti si segnalano per il loro valore sia il giovane Pallante sia il giovane Lauso, figlio del tiranno Mezenzio. Turno sfida proprio Pallante perché vuole vendicarsi del fatto che Evandro si sia alleato con Enea. Pallante accetta senza paura e prega a Ercole di aiutarlo, ma il dio purtroppo sa bene come finirà il duello e piange impotente. Sì perché il gestino del giovane è già scritto. Morirà per mano di Turno, la differenza di potenza fra i due è troppo grande. Pallante scaglia con grande forza la sua lancia che buca lo scudo di Turno e sfiora il grande corpo dell'eroe ma senza scalfirlo. A sua volta con una forza ancora maggiore Turno scaglia la sua asta che trapassa la corazza e il petto di Pallante, uccidendolo sul colpo. Con una certa arroganza Turno sale sopra il corpo di Pallante, gli toglie il balteo e cioè il cinturone che si portava a tracolla, lo prende come bottino e poi commenta Beffardo. Dite a Evandro che questo è il prezzo della sua accoglienza a Enea. E proprio Enea è raggiunto dalla notizia della morte di Pallante e reagisce in maniera furibonda. Mentre cerca Turno per sfidarlo compie una strage di erutoli e di nemici. Con il permesso di Giove, Giunone interviene per salvare Turno dalla furia di Enea. Fa inseguire al erutolo un fantasma composto di vuota nube, dice Virgilio, e cioè gli fa inseguire una falsa immagine dell'eroe troiano. Lo fa arrivare su una nave e poi fa allontanare l'imbarcazione dalla battaglia. Quando Turno scopre l'inganno, per tre volte tenta di uccidersi per la vergogna, ma Giunone lo ferma sempre. È una dura ferita per l'orgoglio di Turno, ma almeno è salvo e al sicuro. Intanto Enea affronta il tiranno Mezenzio, un personaggio molto arrogante perché prima del duello con l'eroe troiano non si affida agli dèi, ma solo alla propria forza. Mezenzio è un uomo crudele e appunto arrogante, ma è anche capace di tenerezza e orgoglio verso il figlio Lauso che sta combattendo con lui. Questa doppiezza è tipica dei personaggi tragici e la ritroviamo anche nell'Eneide. Lo scontro comincia e Enea ferisce il tiranno all'inguine e così il giovane Lauso interviene coraggiosamente a difendere il padre, con il volto rigato dalle lacrime. Lauso protegge il padre in modo che possa allontanarsi, ma poi continua ad attaccare Enea, che lo supplica di desistere. In Lauso Enea rivede suo figlio Ascanio, ne ammira il coraggio e non vuole ucciderlo, quindi gli grida di fermarsi. Dove corri a morire e osi oltre le forze? Ti insidia in cauto l'amore. E cioè attento Lauso, non spingerti troppo in là. L'amore per tuo padre ti sta rendendo imprudente, ora è salvo, non attaccarmi più. Lauso non lo ascolta e continua a incalzarlo e quindi Enea, per difendersi, lo uccide. Mezenzio viene raggiunto dalla notizia della morte del figlio e, stravolto dal dolore, si rialza zoppicando per affrontare nuovamente Enea. Sa già che molto probabilmente morirà anche lui. Il suo bene più prezioso, suo figlio, Lauso, la sua ragione di vita non c'è più. Il tiranno non ha più nulla da perdere. Rimane coerente con il suo duro carattere fino alla fine. Non chiede nulla agli dèi, non chiede di essere risparmiato. Chiede solo che il suo corpo venga sottratto all'acerbo odio e al furore degli etruschi e di essere seppellito vicino al figlio. A questo punto si lancia contro Enea, ma viene ucciso da un colpo di spada al collo. E con la morte di Mezenzio si conclude il decimo libro dell'Eneide. Tutte queste morti di cui abbiamo raccontato lasciano l'amaro in bocca, in particolare quelle di Pallante e di Lauso. Questa guerra fratricida fra due popoli che sono destinati a fondersi, i latini e i troiani, è stata voluta da un copriccio di Giunone. Non dimentichiamoci che Roma viene da anni di durissime guerre civili, iniziate con Mario e Consilla e poi proseguite fino allo scontro fra Antonio e Ottaviano. E quindi con questo finale anche un po' brusco, Virgilio è come se volesse lasciare due domande ai lettori. Che senso ha la guerra? Che senso hanno le lotte civili? Qual è il prezzo che entrambi gli schieramenti poi pagano? E con queste domande concludiamo anche noi il video.